eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di news su call of duty black ops 3 non sarà proprio un vero e proprio video di news su call of duty black ops 3 perché ci entrerà anche a grandi linee call of duty advanced warfare vi spiego tutto quanto bene anche se penso avete intuito dal titolo praticamente con il mitico software perché è veramente un software fantastico e vi sto per portare anche nuove e interessanti chicche su questo software che è il mod tools sono state introdotte all'interno della versione pc di call of duty black ops 3 molte delle armi di call of duty advanced warfare avete capito bene tramite il mod tool sono state ricreate le armi di call of duty advanced warfare ed introdotte all'interno di call of duty black ops 3 potremmo vedere infatti vi lascio in descrizione il video gameplay in questione tantissime armi di advanced warfare all'interno del gioco come la pistola mr6 come il fucile d'assalto l'm1 garand oppure l'altra pistola pdv la mitraglietta quella nuova che era stata introdotta con un aggiornamento lo stand poi ovviamente l'arma predefinita la k47 potremmo vedere il fucile a pompa s12 l'altra arma nuova che veniva dal passato e direttamente da world at war l's tg 44 l'm16 l'mk14 l's n6 quindi quella mitraglietta che vi ricordate a me piaceva tantissimo nella versione money il fucile a pompa tac 19 che sparava delle palle di energia devastanti l'altro fucile a pompa bulldog la pistola colpo singolo l'r w1 che utilizziamo tantissimo nella modalità zombies la mitragliatrice sm1 e tante tante altre troverete il video gameplay come vi dicevo in descrizione del video inoltre in questi giorni vi porterò tante altre novità su questo software perché sono state ricreate veramente tantissime cose ma delle cose veramente originalissime per il multiplayer di call of duty black ops 3 il gameplay in questione che andrete a vedere invece oggi sarà un gameplay zombies dove vedrete appunto le armi di advanced warfare in versione black ops 3 fatemi sapere che cosa ne pensate e quanto vi piacerebbe vedere le armi di av all'interno di bio 3 anche sulle nostre console ps4 xbox one e noi ci vediamo con tanti nuovi video 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 vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale